Torniamo a San Pietroburgo, presso la corte dell'ultimo zar di Russia. Ascoltiamo Giada Candrilli e Michele Napoli in Il mio inizio sei tu. Grazie mille. Stiamo vivendo nuove complicità, ma era un po' che il cuore voleva, funzionerà con te. Che io voglio riempire i miei giorni, te che io voglio perdere i miei sogni, te questo viaggio a porti sicuri tra i contorni. Ci sarò per la figlia del mondo, ci sarò per amarti di più, e così se chiami rispondo il mio vero inizio sei tu. La nostra vita passava, cercando felicità. Con te un futuro ce l'ho, lo aspettavo da un po', niente ora ci cambierà. Con te che io voglio riempire i miei giorni, te che io voglio perdere i miei sogni, te questo viaggio a porti sicuri, chiari contorni. Ci sarò per la fine del mondo, ci sarò per amarti di più, e così se chiami rispondo il mio vero inizio sei tu. Ci sarò per amarti di più, e così se chiami rispondo il mio vero inizio sei tu. Sei tu. Siccome dietro ho tenuto banco e ho aperto un totolotto, si sono baciati? Mi sono baciati alla fine? Ho vinto io ragazzi, tutti i miei camerini, consegne? Ok. Devo dire che vedendovi sempre in sala prove, o ai workshop, o non so, al corso di recitazione, al corso di interpretazione, certo che quando poi vi vestite fighi e fighente, ma siete bellissime. Sempre abituati a vederli in jeans, con la camicia di fuori, c'è un po' di trucco bravi, eleganti e belli, tutti quanti. Bravi! Grazie!